Non esistono patteggiamenti con la Premier League Everton e Nottingham Forest sono passibili di penalizzazione Causa sforamento del fair play finanziario Everton che aveva già avuto 10 punti di penalizzazione Rischia un'altra volta perché i dossier sul fair play finanziario 2022-2023 Non sono ancora usciti Mentre Nottingham Forest è andato fuori di 61 milioni nella scorsa stagione E allora non esistono patteggiamenti Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze benvenuti qui sul canale di Danny Football In difesa del nostro Sheffield che non deve essere attaccato Ma potrebbe avere una svolta importante questa stagione Perché appunto come ho detto Nottingham e Everton sono ancora perseguibili di penalizzazione Non ancora In Nottingham è la prima penalizzazione in caso ci sarà E ci deve essere E ci deve essere Everton sarebbe la seconda E allora pur avendo 9 punti in classifica La situazione potrebbe cambiare in meglio Inutile i comunicati delle due squadre Per me Quello del Nottingham Forest dice Nottingham Forest prende atto della comunicazione della Premier League Che conferma che il club è stato oggi accusato di aver violato le regole sulla retitività e sostenibilità della Lega Il club intende continuare a cooperare pienamente con la Premier League su questa questione E confita in una risoluzione rapida e equa Quindi da una parte Accetteranno la penalizzazione Ma non vogliono che questa penalizzazione sia di troppi punti Eh ma non lo decidi tu Non lo decidi tu Lo decide la Premier League E Se hanno dato appunto per gli arretrati all'Everton 10 punti di penalizzazione Ipotizzo che al Nottingham Forest 7-8 Li potranno dare Ma l'Everton è ancora più Incredibile Perché Perché Che 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 Appunto Cioè C'hanno gli arretrati del 2020-2021 e 2021-2022 Perdite per oltre 260 milioni di sterline E Non è ancora stato pubblicato Non sono ancora stati pubblicati I dati legali I dati legati alla stagione scorsa Dove l'Everton si è salvato Alla All'ultima giornata Poi L'Everton accusa la Premier League Perché Dice che la Premier League Non ha reso Ufficiali e chiare Le regole Sul fair play finanziario Cose cose così Cose per pararsi il culo ragazzi E Poi Assicura ai suoi tifosi Che continuerà a difendere la sua posizione Durante l'appello in corso E se necessario Presso una qualsiasi Commissione Futura Ma C'è poco da dire C'è poco da dire Ovviamente Lo Sheffield Deve andare in campo E deve Giocare il suo calcio Ma non si deve Far condizionare appunto Una possibile notizia positiva Anche perché L'abbiamo visto Con i 10 punti Dell'Everton Lo Sheffield Non è riuscito A fare i punti importanti E Ragazzi Fatemi sapere la vostra qui sotto Secondo me Devono essere possibili Penalizzazioni Entrambe Non perché io sia di parte Ma perché lo dice il regolamento Della Premier League E E niente La Premier League Investiga Vedremo La sentenza Quando arriverà Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Sempre Forza Sheffield Il 21 Sheffield United West Ham Tra 5 giorni Vediamo Se riusciamo A portare Un pareggio A casa Che comunque Vorrebbe Il decimo punto E sarebbe Importante Qui da me è tutto Appunto Ci vediamo stasera O nel pomeriggio Se escono Notizie importanti Di calcio mercato Anche a Sponda Sheffield Che Ci sono C'è qualche Suggestione Bella La